Lo storico vagone del Verbena non sarà distrutto. Un imprenditore sanbenedettese, Antonio Capocasa della Recfer, è intenzionato ad acquistarne una porzione da sistemare in altra location per trasformarla in un polo culturale del divertimento. Capocasa sta trattando con il proprietario dell'ex elittorina, divenuta negli anni punto di ritrovo per i giovani e simbolo della Movida. Al momento il titolare è Gabriele Cruciani, conosciuto in zona come noto inventore. L'accordo pare quasi raggiunto. Capocasa terrà un'ala del vagone per trasformarla in un punto di ritrovo, mentre Cruciani ne utilizzerà un'altra per sistemarvi la sede dell'Associazione Europea Inventori. In questo caso ho deciso appunto di mettere la sede dell'inventore europeo, monumento del calcio elettronico culturale europeo in questa zona, in questo quartiere, il che ho fatto tutti i passi. Entro 24 mesi sarà riaperto il Verbenas, mettiamo le due S dietro perché è meglio così e ritornerà il pub a modo legale. Mentre si sta procedendo allo smantellamento del locale a ridosso della Sentina, fallito anni addietro, ci si sta attrezzando anche per trasferire il vagone in altra sede, cioè su un terreno di proprietà della Recfer, sempre in territorio di San Benedetto ma al confine con Monte Prandone, per intendersi zona Fosso dei Galli. Li resterà inattivo finché non si otterranno le autorizzazioni per ridar vita e smalto ad uno storico pezzo della Movida San Benedettese.